Verità e giustizia, certo, sono due termini che noi portiamo avanti da anni ormai, no Renate? Ci siamo trovati anche insieme a volte a farlo in convegne, però qui una verità mi sembra che già esista, non va ricercata, l'abbiamo trovata, perché quando incrociamo i dati di tutti i soggetti che sia giuridicamente che effettivamente possono parlare, cioè Ema, AIFA e il produttore del farmaco, che ci dicono che quello che ci è stato raccontato è un falso, storico, drammatico, qui non c'è da indagare più null'altro, non ci sono indagini da fare, ci sono affermazioni messe per iscritto dagli unici soggetti che possono dire qualcosa, quindi qui la questione è chiusa, la verità esiste già e non la diciamo noi, la dicono gli unici soggetti titolati a farlo, senza poter essere smentiti da alcuno, il produttore del farmaco, io produco una cosa e ti dico che c'è dentro, scusami, l'Ema, che è l'ente europeo di controllo del farmaco, che dice sì, serve a fare questo, non a quello che dite voi, e adesso anche AIFA, Renate, qui si tratta solo adesso di capire cosa fare e come farlo, perché su questa verità non c'è più dubbio. La verità esisteva, si sapeva sin dall'inizio e su questo l'onorevole Banai ha assolutamente ragione, perché la documentazione dell'Ema e a tale riguardo è anche molto significativa la risposta dell'AIFA data all'associazione Arbitrium, perché ricorda proprio all'inizio che adesso è decisiva la documentazione dell'Ema e della Commissione europea, che hanno autorizzato in via centralizzata, con efficacia per tutti gli Stati membri, queste sostanze. Eccolo qua, questa parte qua che tu stai citando. E questo è molto importante, ma purtroppo poi abbiamo visto in Italia, fino alla Corte Costituzionale, un'assoluta non considerazione di questa documentazione fondamentale, perché vorrei ricordare che l'Ema subito dall'accertamento per l'emissione sul mercato di queste sostanze, ha dichiarato nei suoi rapporti di valutazione, che si chiamano assessment report, che si trovano pubblicati su internet, che io, nel mio parere, rilasciato su richiesta dalla Commissione affari costituzionali del Senato, ho indicato con i rispettivi link per cercare di contribuire ad evitare l'inaspiramento del Green Pass a gennaio del 2022, invece poi lo hanno ampliato. Allora, nessuno dei responsabili delle istituzioni che dovevano sapere, viste le loro mansioni professionali e nessuno ai quali con un innumerivoli PEC sono stati portati a conoscenza questa documentazione decisiva, può dire di non aver saputo. Allora, io vorrei dire una cosa, qua ci vuole è giustizia. Io, come tanti altri avvocati, noi stiamo gestendo casi di persone, anche giovanissime, morti, di persone che hanno subito enormi danni, ma poi ci sono anche le persone le cui esistenze economiche sono state distrutte in tutto questo tempo. Allora, qua non è che possiamo voltare pagina perché questo significherebbe definitivamente l'azzeramento dello Stato di diritto, della chance che i cittadini e io vorrei dire una cosa, sempre più cittadini stanno capendo quello che effettivamente è successo. Io ne conosco una marea di cittadini che prima convintamente si sono fatti inoculare queste sostanze che adesso, anche se non hanno subito dei danni, dicono per fortuna, ho avuto fortuna, però abbiamo capito, un'altra volta non ce la facciamo fare questa cosa. Dunque, la realtà nella società è quella che almeno il 50% della popolazione ha capito e vogliamo veramente pensare che se possa andare avanti con una giustizia che non fa il proprio dovere, con una politica, un governo, un Parlamento che non fa il proprio dovere e la consapevolezza in un enorme percentuale della popolazione di questa realtà, ciò significherebbe la distruzione definitiva della coesione sociale, del rispetto nei confronti delle istituzioni. Perché come si può avere un rispetto nei confronti di una magistratura che chiude gli occhi, che nega fino alle corti supremi queste verità che risultano, che vengono gridati dalla documentazione istituzionale? Ecco, cioè qua c'è veramente la massima logica che si faccia a chiarezza. Ecco, ne parliamo subito dopo. Andrea, nel salutarti, so che devi entrare in redazione, ma non sarà che si è anche un po' approfittato da parte di chi aveva l'interesse? Stefano prima diceva c'è stato un interesse, è chiaro. La logica era l'interesse nel vendere un prodotto, nell'imporre un obbligo e anche probabilmente da parte di chi vorrebbe instaurare un nuovo ordine mondiale, il cosiddetto nuovo ordine mondiale, di capire la reazione dei cittadini, di verificare, Orwell insegna un po' quello che sarebbe successo. Ma non c'era un po' anche l'ignoranza di noi cittadini, io devo dire anche noi, noi ce lo siamo fatto spiegare, noi siamo fortunati perché facciamo un lavoro dove abbiamo la possibilità di interagire con la politica, con la medicina, con personaggi ai quali possiamo fare delle domande, perché è il nostro mestiere, e cioè chiedere, e quindi noi avevamo capito fin da subito, ma non subito perché io anche personalmente l'ho capito dopo che grandi scienziati me lo hanno spiegato, la differenza ad esempio fra il virus, la trasmissione del virus, quindi la possibilità di poterselo prendere, trasmetterlo ad altri, che si chiamava SARS-CoV-2, è un nome che gli è stato dato, insomma, quindi è il virus che si trasmette, che serve a contagiare per i contagi, eccetera, è la malattia che eventualmente ne consegue, che si chiama Covid-19, che è stata chiamata Covid-19, cioè un conto è il virus, e un conto è la malattia, e allora se io ho un farmaco che cura la malattia, cura o dovrebbe curare la malattia, che dice di curare la malattia, anche lì è tutta una questione sperimentale, avrei dovuto sapere fin dall'inizio che non aveva nulla a che vedere con la trasmissione, con il contagio, eccetera, eccetera. Questo non è stato spiegato volontariamente alle persone, e anzi è stato preso proprio come punto per, ecco, un minuto per un tuo commento, cioè era un po' l'ignoranza di tutti noi, soprattutto di tutti i cittadini, ripeto, noi poi abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di farcelo spiegare, di avere avuto gli scienziati veri che ce l'hanno spiegato. Oggi la cosa è chiara, ma dopo quattro anni, la gente inizia a capire ora, perché adesso gli è un po' chiaro alla popolazione questa differenza. Sì, un'ignoranza ovviamente passiva, perché fondamentalmente poi gli italiani si sono informati attraverso i grandi mezzi di comunicazione mainstream che hanno propagandato una narrazione a senso unico. Credo che l'ignoranza in realtà non sia poi il grosso dei problemi, perché l'ignoranza si vince. Quello che non si riesce a vincere sono gli interessi che giustificano questa ignoranza. Allora, noi possiamo dire che i grandi mezzi di comunicazione hanno avuto dei grandi interessi nel portare avanti una narrazione, perché questa cosa era funzionale ad imporre un prodotto, in termini anche commerciali, in termini anche di great reset, perché questo è stato. Io devo dire che mentre alcuni stati, come ad esempio gli Stati Uniti, stanno cominciando a guardare le cose e a chiamarle con il loro nome attraverso delle audizioni alla camera che si stanno svolgendo, io ho dato conto ad esempio di un'audizione in cui il professor Malone, che è l'inventore della tecnica mRNA, ha riportato la straordinaria incidenza di turbotumori dopo le vaccinazioni. E sono cose che, se fossero, emergessero da noi in un consenso istituzionale sarebbero clamorose. E' per questo che mi dico che il compito della nascente commissione bicamerale Covid, sulla quale noi, io e te Fabio, probabilmente nutriamo poche speranze, però è l'unico strumento che attualmente ci è dato per indagare un po' sulle cose. Allora bisognerebbe che i deputati, i senatori che partecipano a questa commissione siano veramente liberi da interessi per raggiungere la verità, perché non sarà difficile se sono veramente liberi da interessi vincere queste ignoranze e soprattutto arrivare a quelle che sono le conclusioni che noi abbiamo già messo nero su bianco, che anche l'avvocato Olzeisen ha sempre dichiarato. C'è un gap in questo mediatico, perché non tutti i nostri colleghi giornalisti erano ignoranti, molti appunti erano anche volutamente orientati. E poi c'è un gap politico legato a degli interessi taciuti, ma che ormai sono clamorosi. Quindi questi erano prodotti che andavano in posti e andavano venduti. Hai ragione, come è possibile che altri colleghi di tutte le grandi testate che si autocertificavano non hanno capito o non hanno voluto capire? Questo è un altro grande interrogativo. Credo che ci sia un vizio legato appunto a questi interessi che comunque sono di tipo economico. E poi c'è secondo me anche un vizio di tipo mentale. perché il giornalismo mainstream... Vabbè, nessuno si vuole mettere in discussione, dai. No, però si abbevera fondamentalmente di fonti istituzionali. Sì, certo. Di veline, veline, le veline. Ma no, ma anche fonti istituzionali. Se la fonti istituzionale dice una cosa, se il governo dice una cosa, allora in quel momento quella cosa è legge. Lo scrivi e basta. E non si va tanto a discutere. Andrea, questo è un bell'argomento. Avrò piacere di parlarne con te anche la prossima volta perché questo è un tema importante. Che fine ha fatto il giornalismo? Dove sta il giornalismo? Ok? Io invito sempre tutti a rivedere il film The Post. Ok? Quindi, che fine ha fatto quel tipo di giornalismo che noi cerchiamo ancora di fare con i nostri mezzi, con le nostre possibilità, osteggiati da tutte e da tutti, con le economie che vengono in tutti i modi distrutte e noi cerchiamo di ricostruire sempre. Questo però è un tema che affronteremo, sì, anche con te, Andrea, e con altri. Perché è fondamentale. Senza la libera informazione, senza l'indipendenza dell'informazione, non si va da nessuna parte, chiaro? Da nessuna parte. Perché il popolo sarà sempre istruito dal grande mainstream dell'elite e non c'è più il pluralismo e finisce la democrazia perché a quel punto, come diceva prima Colonelle Bagnai, la gente ci ha creduto. Ci ha creduto perché gliel'hanno sparato lì e si è creato questo odio incredibile che noi in tutti i modi stiamo cercando di mitigare.